Conta molto perché ci dà la possibilità di continuare a fare una serie positiva e lavoriamo per questo. È una sfida stimolante, è una squadra qualitativa, al di là che ha cambiato allenatore in questo momento, ma è una squadra che ha qualità in rosa e quindi il mercato di gennaio ha rinforzato ulteriormente e quindi per noi sarà una partita importante, un banco di prove importante per poter dare continuità a questa mini striscia che abbiamo iniziato e quindi abbiamo voglia di mantenerla e soprattutto di far punti per tirarci fuori ancora di più da questa situazione. Ma credo che il campionato sia ancora lungo, quindi sicuramente è una parte del campionato dove, come è successo all'andata, doveva darci quella possibilità magari per fare un tipo di campionato diverso in quella settimana con tre partite importanti e purtroppo non è andata come volevamo. In questo momento ci può dare sicuramente quella situazione in più per poter fare un finale di campionato magari in positivo, cosa che non è capitato all'andata andando in un trend negativo. Lo stimolo è alto perché incontriamo tre formazioni importanti, Crotone, Benevento e Picerno e quindi sta a noi, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Se mettiamo in campo quello che stiamo mettendo nelle ultime due partite, sia come qualità, che come voglia di fare, come impatto la partita, come anche personalità, allora ce la possiamo giocare. Però non possiamo prescindere da questo. Ma in ottica playoff, sinceramente noi guardiamo come è stato fino a ieri dietro, quindi non penso che queste due partite ci possa avere tolto da una situazione complicata. Anzi, ho detto tutti i ragazzi che abbiamo fatto sei punti, ma abbiamo guadagnato zero forse come punteggio sulle dirette inseguitrici, quindi il campionato di ritorno è questo. Sappiamo che è diverso e quindi dobbiamo stare sul pezzo perché sì, è vero che abbiamo fatto due vittorie, ci ha dato entusiasmo, ci ha dato un po' di serenità, però basta poco per poter tornare magari in qualche situazione complicata. Quindi dobbiamo dare continuità. Per dare continuità dobbiamo avere quell'atteggiamento, quella voglia, quella determinazione, quell'applicazione che abbiamo messo in queste due partite soprattutto. Quindi poi parlare di quello che sarà, potremmo farlo strada facendo, ma prima dobbiamo tirarci fuori da questa situazione. Ma noi siamo abbastanza bene. I ragazzi hanno recuperato discretamente dall'ultima partita. abbiamo qualche acceccato, sicuramente sì, però devo dire che nel complesso i ragazzi stanno bene. Ripeto, c'è voglia di fare, c'è voglia di migliorarsi e questi due risultati ci ha dato ancora questa spinta per crederci sempre di più. D'altra parte, quando c'è un cambio allenatore, anzi è un contento che il mister in questo momento sia rientrato in pista. Mi fa piacere rincontrarlo. Quando c'è un cambio sicuramente c'è sempre uno stimolo in più, no? C'è sempre qualcosa. Già la squadra importante del Crotone, quindi con uno stimolo in più sicuramente troveremo partita dura. Modulo, ma il mister è stato talmente chiaro in questo, nelle sue dichiarazioni di presentazione, che sono convinto che anch'io che a volte il modulo conta poco. Però sappiamo che è una squadra che giocava in un certo modo, è partita a inizio campionato con un modulo, poi il mister Zauli ha cambiato strada facendo, ora può darsi che potrebbero tornare a un modulo precedente, però noi dobbiamo sapere le caratteristiche dei giocatori che possono andare in campo, quelli che incontreremo, quindi al di là del modulo abbiamo lavorato in alcune situazioni, quindi vedremo quello che succederà domani. Beh sì, giusto, ci fa piacere, dopo la vittoria di Brindisi aver chiuso senza aree di subite, questo è un dato importante. Beh, fa sempre piacere, no? Tornare a chiudere la porta, tra virgolette, e prendere fiducia sotto l'aspetto difensivo, quindi questo è un dato importante e non era da parecchio tempo che forse non succedeva, quindi siamo contenti della doppia situazione, risultato e solidità difensiva, questo sì. Per il resto di Noia è iniziato a lavorare con noi, con la squadra, però ancora non è in ottime condizioni, quindi vedremo domani quello che sarà, però è cominciato con noi, quindi è sulla strada buona. A volte ci sono delle dinamiche dove bisogna fare delle scelte per il bene della squadra, per il bene del gruppo, anche del singolo, bisogna prenderle, quindi sono pagato per questo, e quindi siamo pagati per questo, quindi mi dispiace per Vincenzo che è dovuto uscire a malincuore, perché voleva rimanere in campo, però era troppo rischioso quella situazione, quindi chi è entrato sicuramente ha fatto la sua parte, anzi l'ha fatta anche molto bene, quindi di questo mi dispiace da una parte, però sono contento che chi è entrato ha sfruttato magari anche qualche occasione per poter mettersi in mostra, quindi. Io non ci ho messo tempo a capire, innanzitutto non devo capire che forse Auger era meglio di Marino o Marino non era meglio di Auger, sono due giocatori diversi, sono due caratteristiche diverse, quindi non è che Auger è meglio di Marino o Marino non è l'altezza, anzi. In questo momento, in questo frangente di campionato c'è bisogno e c'era bisogno di queste caratteristiche forse, di avere questa solidità o alcune caratteristiche in campo, ma Marino ha dimostrato di essere un buon giocatore, ha fatto vedere buone cose quando ha giocato, quindi tornerà al suo momento, quando ci sarà occasione, in questo momento Moses, che è stato chiamato in causa, si è fatto trovare presente, si è fatto trovare pronto e quindi è giusto che si prenda lo spazio, o perlomeno la copertina, perché sta dimostrando quello che deve essere il nostro spirito, ma come lo sta facendo lui, lo stanno dimostrando a tanti altri giocatori, quindi non è uno che è meglio dell'altro, è solo un'opportunità che nei frangenti di campionato bisogna sapere anche gestire o saper scegliere. Franco Vezzoni, credo che quando è stato chiamato in causa, abbia fatto sempre la sua buona figura, sostanzialmente ha sempre fatto buone prestazioni. Poi non sono collimate spesso con risultati, però devo dire che quando l'ho chiamato in causa da quinto soprattutto, a destra e a sinistra, ha fatto sempre buone partite, all'andata col Brindisi dove vincemmo 2-0, fece un'ottima partita, partite dove non abbiamo vinto per episodi, credo che abbia avuto un paio di occasioni, se non qualcosa in più, sottoporta per poter realizzare e poter portare a casa punti, quindi io sono molto contento di quello che ha fatto e che sta facendo Vezzoni, un ragazzo che ha qualità, ha qualità fisica, qualità tecnica e quindi si sta esprimendo bene, può fare diversi ruoli, però ripeto, questo deve essere lo spirito al di là del singolo di OCR, di Vezzoni o di altri, possiamo fare tanti altri nomi, però devo dire che i risultati che in questo momento stanno arrivando, queste due vittorie, ha dato, dà la possibilità di poter giocare con più tranquillità anche quei ragazzi che magari nel momento umari negativo, di non risultato, forse qualcosa viene meno, però sono contento e deve continuare, dobbiamo continuare su questa strada, anzi dobbiamo migliorarci molto individualmente. No, no, l'infermeria, come ho detto, a ciacco, tra ricolette, riguardava il fatto di noia, che è ricominciato con noi ma non è ancora al 100%, di Rizzo che sicuramente sarà fuori per l'infortunio che è uscito la partita scorsa, quindi queste sono le situazioni, per il resto nulla di particolare. Embola è ancora fuori, parlo per quelli, sì, ha ancora un problema a ginocchio, quindi è ancora fuori dai convocati, è indisponibile, parlo per quelli che in questo momento erano presenti, quindi perdiamo Rizzo, sì, per l'infortunio, recuperiamo Silvestro dalla scolifica, quindi, ma ripeto, dobbiamo andare oltre anche questo, certo dispiace perdere qualcuno, strada facendo, vuoi per una cosa, vuoi per un'altra, però lo spirito della squadra deve essere quello che dobbiamo saper sopperire a questo, quindi chi è entrato in campo in sostituzione di altri hanno dimostrato quello, vedi anche in fase difensiva domenica scorsa, dove abbiamo avuto sostituire Ercolani per una situazione d'emergenza, è entrato Papazzov, abbiamo dovuto spostare Riccardi a sinistra, quindi lo spirito deve essere questo, così come è entrato Papazzov in casa con il Monopoli, dove si è adattato a fare il quinto e quindi c'era bisogno di fare quel tipo di partita e per quel tipo di caratteristiche hanno risposto presente, quindi questo deve essere il nostro spirito. La presenza di Andrea è normale che è importante per noi, se ho fatto delle scelte e abbiamo fatto delle scelte, l'abbiamo fatta e ben consci di quello che può essere una soluzione, Andrea come giocatore credo che possiamo dire poco, l'avete visto, l'abbiamo visto, l'ho visto, quindi sappiamo che tipo di giocatore è in questo momento, nel momento di difficoltà e nel momento in cui lui si è calato in questa realtà attuale ci può dare molto, ci sta dando molto e sicuramente è una scelta che abbiamo fatto, ho fatto e ne sono molto convinto di aver fatto la scelta giusta, perché in questo momento può darci molto. Ma l'ho detto poco anzi, è cambiato, è cambiato che è passato un girone, sicuramente il trend non è stato positivo da quella partita, però come ho detto prima le cose cambiano da un momento all'altro e quindi se abbiamo guardato o perlomeno pensato in negativo fino a questo momento dobbiamo pensare in positivo che possono cambiare le situazioni e quindi noi ci auguriamo che queste partite importanti con squadre di vertice o squadre di brasonate possa darci qualcosa in più per poter fare quel rovescio di una medaglia che a volte capita, anzi se uno va alla ricerca e spesso volentieri la medaglia si rovescia e quindi noi dobbiamo andare alla ricerca di questo, di andare oltre le nostre capacità e quindi cercare sempre di aggredire alti, di andarle a prendere, di essere offensivi e cercare di, come ho detto l'altra volta qualcuno ha avuto forse un occhio di, ha strizzato un attimo l'occhio ma come dire un po' di sana incoscienza dobbiamo averla sotto questo aspetto che significa essere propositivi, essere positivi in tante situazioni quindi questo ci fa sì che possiamo migliorare le due vittorie sicuramente ci ha, come ripeto, ci ha dato un po' di tranquillità e quindi questo trittico, tornando al discorso di prima, mi auguro che ci possa dare quella quella spinta in più per guadagnare i punti e poter fare quello che poi alla fine tutti ci auguriamo ma il primo passo passa dal guardarsi dietro che poi strada facendo tutto magari potrebbe diventare molto più semplice. Grazie a tutti.